Per l'audacea Cirignola i punteggi tennistici stanno diventando assai piacevoli. Dopo il Monte Sant'Angelo, la tredicesima giornata del campionato di promozione Gironea, ha visto i giallazzuri di Massimo Gallo trionfare con un perentorio 6-0, su una rotiglianese inesistente e che si arrende troppo presto. Pronti via e dopo due minuti arriva il vantaggio con Flavio Amoruso. Il raddoppio arriva sul primo dei calci di rigore, ne saranno due assegnati dall'arbitro, porta la firma di Flavio Morra. Gli ospiti provano a reagire ma l'audacea è un turbo e a pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva la terza rete ancora con Amoruso ed il poker in recupero di prima equazione con Crieco. Gli ultimi due gol portano le firme ancora dell'attaccante autore di una tripletta e di Morra, doppietta personale su rigure, per il finale di una partita in cui il pubblico si è divertito e lascia soddisfatto lo stadio. L'audacea è campione d'inverno con due turni di anticipo sulla fine del girone di andata.